La follia pandemica dell'OMS sta entrando nel prossimo round. L'attuale bozza del Trattato dell'OMS sulle pandemie è disponibile e naturalmente non ne avete ancora sentito parlare, perché si tratta di qualcosa di veramente speciale. Sono in gioco molti soldi. In sostanza, gli stati membri dell'OMS si impegnano ad investire il 5% della loro spesa sanitaria nella prevenzione delle pandemie, il 5% della spesa sanitaria. La maggior parte delle persone non si rende conto delle dimensioni di questa cifra. In media, ogni paese del mondo spende il 10% del suo prodotto interno lordo, PIL, per la salute. Il PIL globale di tutti i paesi è di 100.000 miliardi di dollari, quindi il 10% è pari a 10.000 miliardi. Il 5% di questa cifra deve essere destinato alla prevenzione delle pandemie. Si tratta di 500 miliardi all'anno. Per la Germania sono 20 miliardi. Abbiamo una spesa sanitaria di 400 miliardi. Il 5% di questa cifra è di 20 miliardi. Si tratta di una cifra 10 volte superiore a quella che il bilancio federale già versa ai fondi di assicurazione sanitaria pubblica in perdita, perché già devono versare contributi, perché stanno già lottando per far fronte alle entrate contributive. E quando il trattato dell'OMS sarà ratificato, ci impegneremo a investire ogni anno 20 miliardi nella prevenzione. E questo nonostante il 50% dei nostri ospedali stia già rischiando il fallimento o 7.000 studi medici abbiano chiuso negli ultimi anni. E non a causa della ricchezza. Non abbiamo soldi per la salute corrente e ora dobbiamo attuare la prevenzione e, per esempio, comprare e fare scorta di vaccini. E poiché hanno una durata limitata, dobbiamo continuare a comprarne di nuovi. In pratica, si tratta di un reddito di base incondizionato di miliardi per le aziende farmaceutiche. E non sappiamo nemmeno se abbiamo bisogno dei vaccini o meno. Il denaro continuerà ad affluire nelle casse di Pfizer e BioNTech. Non riescono nemmeno a prendere sonno dal gran ridere. E poi dovremmo effettuare una simulazione di pandemia ogni due anni. In altre parole, ogni due anni l'intero sistema sanitario e noi cittadini dovremmo fingere che non ci siano vaccini, come se ci fosse una pandemia, anche se in quel momento non c'è. Allora facciamo finta e basta. Anche questo costa di nuovo miliardi. L'intera vita pubblica sarà stravolta e così via. Le crisi che abbiamo ora non sono sufficienti. Crisi economica, energetica, pensionistica e migratoria. Dovremmo anche simulare una crisi pandemica nel sistema sanitario. La società dovrebbe essere messa in uno stato costante di panico da pandemia, in modo che sia ancora più disposta ad arricchire le multinazionali del clima. Questo trattato dell'OMS sulle pandemie non dovrà mai essere ratificato e l'AFT farà tutto il possibile per impedirlo. E se volete dare il vostro contributo, condividete questo video, per esempio, in modo che la gente sappia cosa sta succedendo.